Musica Nel giorno di San Donato migliaia di aghettini si sono stretti al proprio patrono. Come ogni anno la solenne giornata di raccoglimento e preghiera celebrata alla Pieve di Arezzo è stata proceduta dalla sfilata per le strade cittadine in onore di San Donato, cerimonia di offerta del cielo e poi lo spettacolo pirotecnico notturno. I gruppi storici si sono ritrovati in piazza San Domenico con i musici della giostra del Saracino, le rappresentative dei quartieri, poi anche i gruppi storici della provincia. Dopo l'uscita dal palazzo comunale dei Fanti, della magistratura della giostra, la rappresentativa della comune di Arezzo con il cielo da offrire a San Donato, l'ingresso in cattedrale dei figuranti. Il cielo è stato acceso dal sindaco di Arezzo Ghinelli, poi è stata la volta dell'omaggio dell'autorità alla reliquia di San Donato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Poi, di notte, l'atteso momento dei fuochi d'artificio contraddistinti, quest'anno da una falsa partenza che ha suscitato un po' di larità, che poi però ha lasciato il posto al consueto stupore. Poi, di notte, l'atteso momento dei fuochi d'artificio di San Donato, che poi ha lasciato un po' di larità, che poi ha lasciato un po' di larità, che poi ha lasciato un po' di larità, che poi ha lasciato un po' di larità. di notte, l'atteso momento dei fuori di San Donato, che poi ha lasciato un po' di larità, che poi ha lasciato un po' di larità. Grazie.